I vostri fulari, oltre ad essere bellissimi, hanno delle caratteristiche particolari perché sono in fibra naturale di bambù, quindi è un tessuto icroscopico, quindi assorbe l'umidità, è un tessuto anallergico, va bene per tutte le stagioni, quindi è termico, può essere utilizzato indifferentemente sia d'estate che d'inverno, ma proprio perché mantiene la temperatura corporea d'inverno, mentre d'estate è traspirante, quindi non fa sudare.